Quando è presente una patologia a carico delle gambe o a carico delle braccia si può verificare quello che è un linfedema. I luoghi comuni dicevano ai pazienti che l'esercizio fisico fosse paradossalmente controproducente. La sfida è stata questa, ovvero creare un programma di lavoro dedicato e specifico per questi pazienti per andare effettivamente a valutare il beneficio che l'esercizio fisico e l'attività muscolare portava sulla loro patologia stessa. Il nostro obiettivo è stato utilizzare BioCircuit, quindi un sistema di allenamento, devo dire, standardizzato e applicarlo in modo specifico ai pazienti con l'infedema. La prima volta il terapista setta il tuo programma in base al peso, all'altezza, penso anche patologie, queste cose. Dopodiché è tutto molto autonomo. In questi 12 mesi nel 98% dei casi abbiamo visto un netto miglioramento, soprattutto precedentemente all'intervento chirurgico. Come riusciamo noi a stimolare le vie linfatiche profonde senza la chirurgia possiamo farlo solo con l'attività fisica e muscolare. Il concetto che a mio giudizio differenzia TechnoGym dalle altre aziende che si occupano quindi di wellness è proprio questo concetto di benessere a 360 gradi. Quindi ho visto TechnoGym come un'azienda che potesse venire incontro a delle esigenze che poi non sono esigenze da palestra, ma sono esigenze mediche. L'esercizio fisico stesso ha la possibilità di essere continuato e perfettuato anche nella propria città di residenza. BioCircuit permette quindi di guidare il paziente nell'esecuzione stessa del movimento ed ha anche un feedback al paziente tramite la sua stessa app, valutando effettivamente il suo improvement. Lo può valutare il medico attraverso dei sistemi un pochino più specifici, quindi sono macchine intelligenti che comprendono quando stai migliorando o se c'è qualcosa che non va. Gli elementi che più mi piacciono e che più preferisco sono sicuramente la semplicità, in quanto si è guidati automaticamente da un attrezzo all'altro. Poco faticoso, nel momento in cui tu finisci l'esercizio su un determinato attrezzo hai subito disponibile il seguente. I singoli pazienti hanno un grado di soddisfazione pazzesca, enorme, enorme perché si sentono nuovamente liberi di poter fare delle cose che prima pensavano di non poter far più. Grazie.